oddio oddio voglio iniziare questo video facendovi divertire un attimo perché sapete che io vi devo far divertire prima dell'inizio del video vi lancio un messaggio di gioia e vi faccio ridere un attimo così almeno ci divertiamo qualche minuto durante la giornata perché è uscito un bozzettino piccolino sul corriere dello sport che mi ha fatto riflettere mi ha fatto riflettere ho detto quando l'ho visto ho detto ma ma cazzo ma ma possibile come passare da essere un barbone al guida il principe di velera il giorno dopo da essere quelli che stanno andando bene stanno facendo bene a essere quelli che vengono smaccati il giorno dopo adesso vi faccio vedere guardate 1 2 3 eccolo qua ma come come si fa a scrivere un errore del genere allegri allegri il colpo del genio come ha trasformato la juve ma com'è che ha trasformato la juve ma se hanno perso fino a domenica ma perché hanno vinto contro i cadavere lì in champions league il colpo di genio ma qual è il colpo di genio non ho capito io cioè come ha trasformato perché come l'ha trasformata la come l'ha trasformato la juve perché ha vinto contro contro quei quattro cadavere lì in champions league poi se perdono un'altra volta domenica cosa fanno che bozzettino scrivono come direbbero i miei parenti in puglia un gulam mamma diavoli rossoleri stavo smontando tutto stiamoli rossoleri bentornati sul canale applauso oggi c'è tanto da dire tanto da parlare perché smaltita la Champions League l'1-1 potevamo fare meglio ma va bene così 1-1 prendiamoci questo punto che ci porta anche un milioncino in cassa perché abbiamo guadagnato un milioncino in cassa l'altro risultato dell'altra partita tra l'altro gioca a nostro favore non siamo ancora usciti matematicamente quindi crediamoci fino alla fine ma si inizia a parlare di derby oggi però noi andiamo a fare un milanews generale perché ci sono tante tante madonna imbarazzante ragazzi ho scritto gli appunti sopra la bolletta le ho scritti sopra la bolletta tutta strappata una roba imbarazzante oggi andiamo a fare un milanews generale ma in particolare vi devo dire come avete visto nella miniatura una dichiarazione che sta facendo incazzare i tifosi rossoneri sui social si sono scatenati tutti contro questo ex calciatore che tra l'altro quando l'ho vista anche in diretta ho detto tutto bene perché lo sta dicendo cioè è un ex calciatore del milan però purtroppo ultimamente ci sono degli ex calciatori che sparano queste cazzate perché ormai fanno i telecronisti fanno gli opinionisti e sparano a zero oggi andiamo a vedere tutto questo ma prima di tutto come sempre marchetta no vi devo chiedere una cosa importantissima iscrizione al canale per la marchetta ci sarà tempo non è ancora il video della marchetta questo lo sponsor maglia non è questo il video ci sarà tempo iscrizione al canale mi raccomando è importantissimo iscrivetevi al canale lasciate un bel pollicione in su e sempre forza diavolo anche perché non vi costa nulla tu che mi stai guardando devi capire una cosa che non ti costa nulla sono io quello che deve segnare tutto sulle bollette le cose da dire a te non ti costa nulla vai sotto qua schiaccia il bottone e ti sei iscritto di chi mai stiamo parlando di Billy Costa Curta Billy Costa Curta che ultimamente spara sempre e solo a zero contro il Milan e io non riesco a capire perché perché da quando ha smesso di giocare a pallone continua a sparare a zero sul Milan come Massimo Ambrosini perché se voi guardate la telecronaca di Ambrosini ce l'ha sempre col Milan e si fa sempre contro il Milan e Costa Curta sta facendo la stessa cosa ultimamente ma non riesco a capire come mai questi ex calciatori ce l'hanno così a morte con noi cosa ha detto Billy Costa Curta dopo la partita Milan-Porto ha detto che il Milan ha preso solo schiaffoni in Europa e questa cosa ragazzi ha fatto imbestialire i tifosi sui social io ne ho viste dirgliene che se ve le scrivo ci chiudono il canale gliel'hanno dette di tutti i colori e sinceramente anche a me mi ha lasciato cioè mi ha fatto rimanere un po' male cazzo vuol dire che il Milan sta prendendo schiaffoni non ho visto un Milan che ha preso schiaffoni non ho visto un Milan che ha perso 3 a 0 4 a 0 5 a 0 ho visto un Milan che se l'è giocata soprattutto con l'Atletico un Milan che con l'Iver poi comunque probabilmente meritava qualche cosina col Porto ci può stare col Porto sono tante due partite che abbiamo fatto magari qualche cosina in meno però c'è da dire che all'andata col Porto ci hanno rubato la partita ma questi schiaffoni io non li ho visti non li ho visti questi schiaffoni quindi Billy Costa Curta perché fai queste dici queste cose poi ha detto che secondo lui l'Inter arriverà prima nel girone sopra il Real Madrid e che domenica al derby arriva meglio l'Inter del Milan non è scattato ma ci vuole l'applauso per Billy Costa Curta che ha detto una cazzata ha detto una cazzata stratosferica perché io non riesco a capire come ve l'ho detto come fa tante volte Massimo Ambrosini io non vedo questo Milan che arriva peggio dell'Inter solo perché c'è stata questa partita giocata un po' così col Porto il Milan sta facendo benissimo in campionato non ho visto un Milan che ha preso schiaffoni in Champions League ma ho visto un Milan che se l'è giocata con tutte quante quindi mettiamo da parte questa dichiarazione che ragazzi voglio sapere voi cosa ne pensate delle dichiarazioni e di Billy Costa Curta fatemi sapere qui sotto e state calmi non sparate parolacce che ci bannano tutto state calmi passiamo alle notizie positive perché da Milanello arrivano notizie importanti recuperato Florenzi recuperato Pellegri molto probabilmente si stanno nell'anno in gruppo quindi probabilmente arruolati per il derby ci saranno al contrario ancora Messias Balloture e Ante Rebic saranno da valutare giorno per giorno soprattutto Ante Rebic perché può essere una pedina molto 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 importante per il Milan ragazzi però piano 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 stiamo recuperando tutte le pedine poi andiamo fra il che si perché io ho visto delle dichiarazioni ieri ho scritto fumata nera per il rinnovo di Frankessi c'è molta distanza ma lo sappiamo ragazzi lo sappiamo le parole di Paolo Maldini dopo la partita col Porto sono state prima o dopo col Porto adesso non mi ricordo quando l'hanno intervistato comunque ha detto ci sarà un ennesimo incontro vedremo cosa si potrà fare ma ma si è capito proprio dalle parole dallo sguardo di Paolo Maldini da come ha detto quella frase che Frankessi non rimane al Milan ragazzi ve lo dico io Frankessi andrà via perché ho visto notizie oltre che su Parisa Germena anche sul Tottenham Conte che adesso va ad allenare è andato ad allenare il Tottenham lo vuole quindi ci sarà come vi dicevo qualche video fa alla fine ci sarà un'asta per Frankessi e lui partirà e poi ha riparlato il sindaco Sala e cosa ha detto il sindaco Sala che entro venerdì prossimo ci sarà la delibera del comune e si possono iniziare i lavori e questo ragazzi è tanta tanta roba sappiamo siamo tutti contenti l'accordo si è stato trovato tra Milan Inter e il sindaco Sala ora ci vuole la delibera del comune di Milano e si iniziano i lavori per la tempistica quanto ci vorrà io vi dico che per vedere lo stadio finito per iniziare a giocare nel nuovo stadio minimo minimo ragazzi mettiamocelo in testa ci vorranno 6-7 anni secondo me ci vorranno 6-7 anni e anche le dichiarazioni di Scaroni il nostro presidente Scaroni qualche giorno fa che ha detto Elliot venderà il Milan ma non è che lo vende adesso Elliot venderà il Milan quando sarà finito lo stadio passeranno 6-7 anni il Milan sarà super valutato perché Elliot ci vuole guadagnare su questa storia è per quello che fanno anche lo stadio e poi venderà il Milan ma questi sono discorsi che faremo più avanti nel frattempo iscrivetevi al canale lasciate un bel like fatemi sapere cosa ne pensate di tutto questo discorso e noi ci vediamo domani grazie a tutti grazie a tutti